La rosa. La primavera è stupenda. Meri con le scalze nel prato. L'aria è ancora fresca, ma finché il sole è alto in cielo non ha importanza. Poi non è ancora così caldo da far uscire nuvoli di insetti fastidiosi come lo diose zanzare. Anzi, non c'è proprio nessun insetto o animale in questa zona. Solo splendidi di fiori e tra tutti i fiori presenti la regina è sicuramente quella rosa rossa che spunta dalla siepe. Stupenda, grande e rossa. Profuma tantissimo e la attira per essere annusata da vicino. La rosa è più grande di quello che sembrava da lontano. Molto più grande. E anche più rossa. Rossa sangue. Meri l'annusa profondamente e cade a terra istantaneamente svenuta. Le radici ne raccolgono e le trascinano sotto terra. Sboccia un'altra rosa, rossa come il sangue. Non c'è nessun insetto o animale nei paraggi. Solo splendidi fiori. No c'è nessuno. Non c'è nessuna sprax.